Risotto al gorgonzola e radicchio tardivo. Una ricetta semplice ed economica, il risotto al gorgonzola e radicchio tardivo è un primo piatto gustoso, perfetto per una cena invernale. Un mix di sapori decisi e contrastanti, come quello del radicchio tardivo e del gorgonzola, che ben si abbinano con il sapore delicato dei chicchi di riso. Ingredienti, riso, gorgonzola, radicchio tardivo, scalogno, burro, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Procedimento Iniziate preparando il brodo vegetale, facendo bollire in una pentola una carota, una cipolla, un gambo di sedano e qualche foglia di prezzemolo in acqua salata. In una casseruola, fate soffriggere lo scalogno con una noce di burro e un filo d'olio. Aggiungete il riso, fatelo tostare qualche minuto, poi bagnate con il brodo caldo, poco alla volta. Lasciate cuocere a fiamma bassa, aggiungendo il brodo man mano che il riso lo assorbe. A metà cottura, aggiungete il radicchio precedentemente lavato e tagliato agli starelli. Quando il riso sarà cotto, togliete la casseruola dal fuoco e amalgamate il gorgonzola, fino a ottenere una crema densa. Servite il risotto al gorgonzola e radicchio caldo. Servite il risotto al gorgonzola e radicchio caldo. Servite il risotto al gorgonzola e radicchio caldo. Servite il risotto agliare l'interquistico caldo. Grazie a tutti